Lo scorso fine settimana si è svolto un convegno studio ospitato venerdì nella sala conferenza di Casa Giuliosa, sede del Parco regionale di Portoconte a Tramariglio. L'evento formativo, dal titolo Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo, organizzato dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari e dal Club Giuristi dell'Ambiente, ha goduto del supporto logistico e patrocinio del Parco regionale di Portoconte e del Parco nazionale della Sinara.